ok raga saluto a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono kekkoamer e scusate per prima se ho dovuto chiedere la live ma mio fratello aveva incominciato a dare i numeri io siamo su minecraft siamo su minecraft facciamo una piccola live visibile giocatore lan quindi se qualcuno vuole giocare visibile giocatore l'anno potete entrare chiamavo kekkoamer ok siamo in sopravvivenza e siamo in live che ne ho posso tagliare se vado in creativo ma non lo farò e direi di iniziare ok no che posto brutto per iniziare dai ragazzi in serio questo brutto no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no vabbè no che ne parla no 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 un delfino ho passato davanti a un delfino ma non fa niente ci abbiamo 7 blocchi quindi direi di fare così ok, 28 blocchi potremmo farci una casetta non sto scegliendo il punto dove fare questa casetta guarda perché non entra nessuno guarda entrate in live lo aspettate ok meno male che mi ha dato un po di carne non sto scegliendo il punto dove fare questa casetta non mi ricordo male secondo me però una casa la possiamo fare anche qua spacchiamo qua qua c'è l'ingresso qua rompiamo il fungo ecco qua ci viene una casa per prima cosa voglio fare una casa semplice mi spiace usare il legno per fare qua però dai poi ci serve il legno per la borda ok e se non mi sbaglio così si tre porte ok si ok abbiamo tre porte non ho fatto la porta no però dai ok bella ok però se io faccio così 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 e ho sbagliato qua perdo un paio di cuori ok l'ho pure presa al volo ok scelto e inizio a fare i primi piani ok però siamo quindi qua devo lasciare ecco poi scavo qua un po' di terra mi serve di più molto di più ecco ecco possiamo prendere anche questo quindi se non dire nemmeno quindi facciamo così ecco 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 tipo a me ne mancano più di 10 che mi ne servono più di 10 ok guarda che bella casetta ok non ce ne sono anche le live spero che arrivi qualcuno qua c'è una caverna se dai si può fare si può risalire qua c'è acqua bassissima devo risalirmi e tornare con qualche piccone andrea passi la voce andrea 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 qua non c'ho proprio aspetta misericordia ok dai raga che palle perché non me le donne devo prendere una alla volta la vuole scottature però anche vuole diamanti devo rischiare dovrei prendere l'acqua meglio che se io faccio così me li salva le cose ah giusto ho prenduto l'inventario quindi non fa niente però dai voglio tentare di prendere l'acqua la prendo la prendo la prendo raga ho preso l'acqua ma ho preso anche la lava allora raga come ho fatto a prendere l'acqua non lo so però adesso mi serve il mio blocchetto andrea abbassa la voce ok che servirebbe anche l'ossidiana qua sono quasi sicuro no 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 acqua 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 ma l'acqua mi fa solo morire ok vaffanculo ah ho capito ho capito andrea abbassi la voce per favore palle ora va anne per favore abbassi la voce ho segnato qualche adesso vabbè è troppo difficile questo adesso vabbè è troppo difficile il ... ... ... ... ... e io Andrea, bassi la voce! E vabbè, Anna, io direi che per oggi è tutto, anche perché ho fatto tre...